Veneto Banca in borsa a fine giugno, da giovedì prossimo, 19 maggio, il sondaggio tra gli investitori interessati a sottoscrivere le nuove azioni. E questa è la data su cui il Consorzio di Garanzia, guidato da Banca IMI, sta ragionando in vista dell'aumento di capitale da un miliardo di euro a servizio della quotazione a piazza affari del gruppo di Montebelluna, che a differenza dell'operazione della Popolare di Vicenza, prevederà anche l'offerta in opzione ai soci. A valle del pre-marketing sarà fissato inoltre il range di prezzo dell'offerta, che sarà reso nota al mercato subito dopo la pubblicazione del prospetto da parte della Consob. L'offerta dovrebbe partire ai primi di giugno e, visto che c'è il diritto di opzione ai soci, dovrà durare almeno fino a metà mese. Così, oggi nel corso del CDA, che a sorpresa ha pure rinviato l'incontro di domani con i delegati del coordinamento Banche Don Torta, che rappresentano ben 22.300 risparmiatori di Banche Venete, di cui oltre 8.900 di Veneto Banca. Sono deluso perché è stata rinviata, data da destinarsi, la riunione di domani 17, che doveva essere l'inizio per i tavoli di conciliazione con i soci risparmiatori. In rinvio, motivato dal fatto che l'incontro era stato fissato dal vecchio CDA e non da quello attuale. Domani il Don Torta si lancerà con una nuova richiesta in regione a tutela dei risparmiatori in crisi. Ne chiederemo un incontro alla Commissione per capire a che punto è la Commissione d'inchiesta. Inoltre chiederemo l'utilizzo dei 300.000 euro che sono stati stanziati da mettere da dare a questi soci, ai soci che inizieranno delle cause e per verificare la possibilità assieme alla regione di mettere degli avvocati mutualistici.